Musica Ciao a tutti, qui è Edoardo Napoli, sono qui per presentare la mia GQR EPN Signature Il legno principale è legno di tigno con un top in acero fiammato I pick up sono MG577, SA7 e 667 Con un unico pote di volume e un selettore a 5 vie Il manico invece è costituito da 5 pezzi in acero e palissandro La tastiera è in pauferro con questo in tarsi disegnato a mano dal maestro Giorgio Arlusino Senza ulteriori dugi ci concentriamo a sentire come suona Musica 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.